vai che siamo quasi a cinque minuti ragazzi forza ma io me l'hai faticato troppo guardate come sta che posizione dai esatto in ginocchio da te ora ci hai messo il più tempo a comprare la ruota che nessuno l'ha vista la foto ieri dei giochi erotici tra il presidente Paolo Gambaluta no ma io l'ho visto ho visto solo una foto tua con tutta la roba in acqua ero io la maionese dice che era maionese chi lo dice? Paolo loro io già ho avuto tanto tempo che l'ho detto la mia vita è in grado di vestivare è salito bene puoi comprare l'altro po'? stanno ridendo di noi adesso è ufficiale sta bene voglio la verificare la mano alla trim quanto è questa? sta dando un po' la cima a centrale questo massaggio finale questo massaggio finale oooooooole latte come facciamo? ciao ma io l'ho grabbuccio no stanno necchi sei letto io prendo la traccia ok bravo ma io prendo la traccia è meglio ho visto mi viene attrezzato mi viene attrezzato mi viene a traccia ma no, non è venuto no, non l'hai visto tu Vabbè ma noi come siamo andati in direzione? Siamo sotto i 7 minuti Vediamo chi è il prossimo allora Vabbè Raffaele Vabbè c'è un po' di due ma non rimane su Bravo 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 Ma quello è pure Cristiano Le scotte di merda Le scotte di merda Vi stiamo ci attendo che stanno Tre scotte Quattro Quattro prende alla buca Due, due, tre e quattro Siamo da quattro scotte Veramente Andata via forza Grazie a tutti